Musica Allora, io oggi sono venuta qui a rappresentare quello che può essere un'iniziativa che si terrà il 9 giugno che è Beautiful Day, una giornata dedicata alla bellezza nell'ambito oncologico in quanto chiaramente responsabile dell'ambulatorio di oncologia presso l'ospedale San Pietro nonché facente parte dell'associazione La Cura Si Fa Arte un'iniziativa che si fonda su quello che può essere il benessere della persona che chiaramente passa attraverso molteplici canali, non soltanto quello della terapia ma soprattutto quelli che possono essere tutti i trattamenti che vengono effettuati che possono essere effettuati, che aiutano la persona a sentirsi meglio perché il benessere passa attraverso vari canali, come stavo dicendo e il canale della bellezza è uno di questi che non deve essere sottovalutato ma anzi deve essere il più possibile sponsorizzato Grazie a tutti Grazie a tutti